Andiamo, Finn. Sono Finn. Lasciate un messaggio, lo ascolterò prima o poi. Sono Miles. So che in questo momento sono l'ultima persona con cui vuoi parlare, ma devi ascoltarmi. Krieger ha modificato le specifiche del reattore. Se inserite del Nuform instabile... Il messaggio ha superato i limiti di lunghezza in forzata. Riagganciare e... La richiamo più forte. Il museo era in ristrutturazione e l'Underground ne ha approfittato. Finn deve essere lì. Spero di riuscire a vedere l'esplosione. Sta per cambiare tutto. Pista contro la tua città verrà, ma dopo il plaza toccherà a noi. Adesso mi gustò. Maçi tra chi sta pregando! Sì, Sì! Non puoi farlo aci! Senpiero! Dai a tutti i miei, il fireman! Spero di riuscire a vedere l'esplosione, sta per cambiare tutto, visca contro la tua città per amo. Ha, esecuzione perfetta. Spero di cacciare la Roxxon farà allargare i nostri orizzonti. Ci sono altre battaglie che meritano una lezione. Certo, se dovesse fare storie l'Andal Grando non la trovo. Giù il Sipanio. Sì, ma deve finire il lupo. Sì, ma deve finire il lupo. Sto bene. Tranquillo. Hai al teatro del nove. Il lupo. Ho detto che sto bene, ok? Stammi lontano o trattieni. Non abbiamo tempo per questo. Non puoi farlo. Non da solo. Non puoi vatterci fuori. Stiamoci dentro. Stammi lontano. 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 Sì, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, sono così dolci quando dormono. Grazie a tutti. Non ti piace l'assaggio. Lowry, dove sei? Qualcuno vada a dare un'occhiata. Sto andando. E' allora della nonna. Non te l'aspettavi, scomento. No. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Andiamo... Andiamo a romper...